Ecco, noi bagniamo il nostro pochino, il nostro pochino. Siamo molto contenti del ritorno di questa tela nella nostra chiesa di Gesù e Maria. La Sacra Famiglia, il dipinto olio su tela realizzato nel 1674 dal pittore Benedetto Brunetti, dopo un prezioso lavoro di restauro durato circa tre mesi e realizzato da Leonardo Maddalena e ritornato nella chiesa Gesù e Maria di Foggia, nel convento dei frati minori, nuovamente a disposizione dell'intera comunità. L'opera, restituita alla sua bellezza originaria, è stata consegnata nelle scorse ore con una breve cerimonia alla presenza delle autorità della città, un evento devozionale molto atteso e apprezzato dalla cittadinanza. Una tela storica che è presente qui da secoli e che rappresenta la Sacra Famiglia con i santi Gioacchino ed Anna, un tema molto attuale oggi. Gioacchino ed Anna sono i nonni di Gesù e i genitori di Maria e oggi più che mai è urgente nella nostra società riscoprire il valore dei nonni e il valore della famiglia. Per quanto riguarda l'intervento conservativo, l'opera si presentava con alcune problematiche. quelle principali erano molte ridipinture presenti su parte del panneggio delle raffigurazioni sia della Madonna che di Sant'Anna. Il valore artistico da un punto di vista più che altro di bellezza, di ricchezza, di meraviglie del territorio è altissimo. Da un punto di vista poi ovviamente io lavoro in questo tipo di opere d'arti, ritengo che anche sul territorio sia una delle più belle opere che conserva soprattutto la città di Foggia.